Questa nuova legislatura europea si è aperta all'insegna della preoccupazione e dell'incertezza per il protrarsi della guerra in Ucraina, per la drammatica escalation in Medio Oriente, per i mutamenti geopolitici e per le molte difficoltà che attraversa l'economia europea in parte conseguenza di questi scenari, in parte figlie degli errori del passato. Possiamo cioè scegliere di continuare ad essere ciò che siamo stati finora, ovvero un gigante burocratico che appesantisce cittadini e imprese con una selva di regole, molte delle quali senza senso e autolesioniste, oppure possiamo invertire radicalmente questa tendenza concentrandoci sulla visione e sugli strumenti necessari a realizzare quella visione. E' quello che i cittadini ci hanno chiesto con il loro voto e fedeli come siamo alla sovranità popolare intendiamo dare seguito a questa indicazione. Come ho detto mille volte, inseguire la decarbonizzazione al prezzo della deindustrializzazione è semplicemente un suicidio. Non c'è nulla di verde in un deserto e nessuna transizione verde alla quale guardiamo con favore è possibile in una economia in ginocchio. Non mancheranno le occasioni per dividerci nel corso di questa legislatura europea, su tanti temi su cui le diverse forze politiche hanno opinioni spesso radicalmente diverse. Ma di fronte all'affermazione dell'interesse nazionale credo che abbiamo il dovere di essere uniti. E' quello che noi abbiamo fatto nella scorsa legislatura, all'atto della nomina di Paolo Gentiloni, quando proprio Raffaele Fitto, in rappresentanza di Fratelli d'Italia, si espresse a favore del candidato italiano e conseguentemente il gruppo di ECR votò in suo favore. E addirittura il presidente Silvio Berlusconi chiese di partecipare ai lavori di una commissione che non era la sua per poter prendere la parola e intervenire a sostegno di Paolo Gentiloni. L'altro grande focus di discussione a Bruxelles sarà rappresentato ovviamente dalle crisi geopolitiche in atto. Il Consiglio europeo ribadirà il proprio sostegno alla causa ucraina, perché l'obiettivo di tutti rimane sempre lo stesso, costruire le condizioni per una pace giusta e duratura e aiutare l'Ucraina a guardare al futuro, un futuro di prosperità e di benessere. Difendiamo il diritto di Israele a vivere in pace e in sicurezza, ma ribadiamo la necessità che questo avvenga nel rispetto del diritto internazionale umanitario, perché non siamo insensibili di fronte all'enorme tributo di vittime civili innocenti a Gaza che non a caso sono state dall'inizio al centro del nostro lavoro. Al Consiglio europeo torneremo a occuparci di un'altra sfida che vede in prima linea l'Italia e l'Europa nel complesso, ovvero il governo dei flussi migratori. Nell'agenda strategica che abbiamo approvato a giugno l'Unione europea ha fissato delle priorità ben precise. La difesa dei confini esterni, il contrasto all'immigrazione irregolare di massa, l'impegno per affrontare le cause profonde della migrazione e il sostegno ai canali di migrazione legale. Direttrici di azione alle quali questa nuova legislatura europea deve dare seguito. Una efficacia che i numeri raccontano meglio delle parole. Nel 2024 la percentuale di sbarchi di immigrati illegali è diminuita del 60% rispetto al 2023 e del 30% rispetto al 2022. È merito delle politiche del governo, certo, ma anche del sostegno che l'Europa ha garantito a molte delle nostre proposte, come il memorandum con la Tunisia e con l'Egitto. E colgo l'occasione per ringraziare anche il Ministro Salvini e soprattutto la Guardia Costiera Italiana per il suo straordinario lavoro e per esprimere a questi uomini e a queste donne la solidarietà del governo di fronte ai continui attacchi faziosi che subiscono da organizzazioni politicizzate che detestano chiunque lavori per contrastare l'immigrazione illegale di massa. Io ho detto che se nel fare la transizione ecologica, cosa sulla quale stiamo d'accordo, imponiamo l'uso di un'unica tecnologia che è l'elettrico, ci consegniamo a nuove dipendenze. Non so se lei non ha capito o sta strumentalizzando, ma il concetto garantisco che non è difficile. Il concetto non è difficile. Il giorno che mi faccio spiegare che cosa ho detto da un esponente del Movimento 5 Stelle mi dimetto, guarda. Mi dimetto.